Un saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Damiano Fedeli. Cominciamo dalla A1, dove ci sono 3 km di coda per incidente fra Valdichiana e Arezzo, in direzione Firenze, in direzione Roma coda per traffico intenso fra Valdarno e Monte San Savino. Sempre sulla A1, nei weekend di agosto, dalle 14 del venerdì alle 6 del lunedì, lo svincolo di Firenze in pruneta, altrimenti chiuso per lavori, rimarrà aperto in entrambe le direzioni. Ricordiamo il blocco dei mezzi pesanti sulle autostrade oggi dalle 16 alle 22. Sulla FIPILI in direzione Firenze, rallentamenti per lavori fra Ginestra Fiorentina e la Strasigna, rallentamenti per lavori in direzione Livorno fra Ponte d'Eraeste e Vicarello. A Firenze in via Masaccio, chiusura della strada, causa incidente, blocco temporaneo della circolazione. Ed è tutto, buon viaggio. Grazie per la visione.